Musica Volo di 15 metri durante un'arrampicata muore sul colpo un fanese di 68 anni. Acquaroli firma l'ordinanza da domani la provincia di Ancone in zona rossa. Rischio quella di macerata. Il presidente dichiara dobbiamo frenare quanto prima la diffusione del virus. Assembramenti in lunghe file al centro sociale Monaldi per i vaccini a personale scolastico. Partiti in contemporanea alla profilassi per gli over 80. Un computer va in tilt e monta la protesta. Allora non è giusto che le persone di 80 anni in su fino a 90 o mia mamma di 91 anni debba stare fuori con la prenotazione fatta a sedere su una seggio all'aperto e magari prima fanno gli insegnanti. Sono persone fragili perché sono anziane, non sono animali. Quattro casi di variante inglese, un aumento di contagio accoglie al Metauro. Il comune annuncia più controlli e lancia un appello alla cittadinanza. Strage alla lanterna azzurra maggio l'udienza preliminare del procedimento bis. Tra i 18 indagati, la commissione di vigilanza, i gestori e il titolare della discoteca. Il problema è la crisi, perciò la signora che prima veniva al mercato adesso deve aiutare il nipote, deve aiutare i figli e perciò i soldi in tasca non ce l'hanno. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla notizia in apertura alla tragedia che si è consumata nel comune di Piobbico dove un uomo, un fanese di 68 anni, è caduto durante un'arrampicata ed è morto dopo un volo di 15 metri. È successo intorno a mezzogiorno nel sentiero Fosso dell'Eremo. A dare l'allarme è stata una persona che era con lui. Sul posto un elicottero dal quale è sceso con un verricello il personale medico che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Nelle operazioni di recupero impegnati anche i vigili del fuoco di Pesero Urbino, il 118, il soccorso alpino e la compagnia carabinieri di Urbino che sta indagando sull'accaduto. E adesso apriamo la pagina della sanità. Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, ha firmato nel pomeriggio la nuova ordinanza che blinda l'intero territorio anconetano. Infatti dalle ore 8 di domani mattina la provincia di Ancona passerà in zona rossa. Il provvedimento sarà valido fino al giorno di scadenza dell'attuale DPCM ancora in vigore, cioè venerdì 5 marzo. Per il periodo successivo ci sarà una nuova ordinanza. Non appena sarà reso noto il testo definitivo del decreto che entrerà in vigore da sabato 6. La situazione è in continuo divenire, ha scritto su Facebook il presidente Acquaroli ed è monitorata costantemente. L'analisi settimanale dei dati effettuata ieri ha evidenziato la necessità di intervenire con un ulteriore provvedimento sulla provincia di Ancona. Restano sempre attenzionati tutti gli altri territori con particolare riguardo all'andamento epidemiologico in crescita sulla provincia di Macerata. È fondamentale frenare quanto prima la diffusione del virus, ha concluso il presidente. È il momento della massima responsabilità di ciascuno di noi. E dopo la falsa partenza di ieri e oggi sono iniziate con qualche problema le vaccinazioni a personale scolastico. A Pesaro si sono formati però assembramenti e lunghe file di anziani arrabbiati e inattesa. Allora vediamo che cosa è successo nel servizio che è stato curato da Angelica Panzieri. Un plauso per il personale medico, la protezione civile, ma per la struttura è tutto da vedere. Non si può lasciare persone di oltre 80 anni in mezza. Fortunatamente oggi c'è il sole, ma se fosse una giornata di pioggia, ma dove andiamo? Vaccini over 80, la macchina organizzativa va avanti, ma nel centro sociale Monaldi, alla celletta di Pesaro, qualche intoppo questa mattina c'è stato. Anziani costretti ad aspettare per oltre un'ora e mezzo il proprio turno all'esterno della struttura. Inevitabili gli assembramenti durante l'attesa, un problema derivante dal fatto che in una postazione degli operatori, riferiscono dall'area Vasta 1, un computer non funzionava. I sanitari si sono adoperati per cercare di risolvere le criticità nel più breve tempo possibile, ma nel frattempo, fuori dal centro, la rabbia tra gli anziani in attesa montava. Stamattina ci sono le persone dagli 80 anni in su, insieme ci sono anche gli insegnanti. Allora non è giusto che le persone di 80 anni in su, fino a 90, io mia mamma a 91 anni, debba stare fuori con la prenotazione fatta a sedere su una seggiola all'aperto e magari prima fanno gli insegnanti. Non è giusto, non è giusto, ma bisognava metterli in un altro giorno, non con queste persone così anziane. Organizzare una vaccinazione in queste condizioni, mettere un numero di persone conosciuto, perché sapete quante sono, mescolando gli 80 anni agli insegnanti e poi mettendoli in un buco come il centro Monaldi. Un rotame, una schifezza. Io penso che la signora Capalbo e il signor sindaco del cavolo che canta e gira e cinguetta in giro, si debbano vergognare di quello che hanno fatto. Lei sta aspettando da molto tempo? Io avevo appuntamento dalle 11 a mezzogiorno, ma con me, dalle 11 a mezzogiorno, quando c'è una capacità, penso, di una sessantina di vaccini, ce n'erano 70-80. È una cosa assolutamente inconcepibile e poi se ne vantano pure. Oggi a Pesaro ne sono stati vaccinati 672, in contemporanea sono partite le vaccinazioni per i rappresentanti del personale scolastico. Diversi, gli ultraottantenni, che hanno lamentato un'inefficienza relativa all'organizzazione, qualcuno ha richiesto addirittura di individuare sedi più grandi per la prossima somministrazione del vaccino. Così non va bene. Noi siamo gli over 80, non abbiamo 30 anni. E stare qui le ore seduti. Lei signora, a che ora è arrivata? A che ora doveva fare il vaccino? Io avevo l'appuntamento per tutti, ovviamente, dalle 10 alle 11. Quando sono arrivata alle 10.10 ho avuto il numero 14, ma della campagna delle 10. E qui ancora c'erano quelli del turno precedente. Quanto ho aspettato? Io sono arrivata alle 10 perché sono dalle 10 alle 11. No, è un'ora e mezzo che sono qua. Sono stata a Fano al Codma, in mezz'ora ho fatto tutto. Io sono cardiopatico, ho fatto l'intervento al cuore. Qui devo aspettare, dalle 11 a mezzogiorno, lei si figuri. Comunque, tutti così, bisogna avere pazienza, però bisogna... Se facevano più punti, non era meglio? C'è tanto spazio? Vabbè, non diciamo niente, che tanto le cose non cambiano. Al via i vaccini per docenti e personale ATA, questa mattina al Centro Sociale Pino Monaldi di Pesaro, le vaccinazioni sono partite in contemporanea anche al Pala Carneroli di Urbino e domani, dopo la falsa partenza di ieri, continueranno anche al Codma di Rosciano. A Pesaro oggi, per i rappresentanti del personale scolastico, tutto è filato liscio. Ad essi, tutti under 65, è stata dedicata un'apposita corsia preferenziale ed è stato somministrato il vaccino AstraZeneca. Lei si è vaccinata? Perché ha scelto di fare il vaccino? Perché cerco di evitare di prendere il Covid. La macchina ha funzionato bene? Sì, sì, appena sono arrivata mi hanno fatto. Non c'era neanche la fila, quindi tutto a posto. Per proteggere me stesso e gli altri. Quindi è venuto qui questa mattina, com'è andata? Ancora bene, bene. Quindi non ho fatto male, chiaramente. Sono qua in attesa del quarto d'ora per vedere se ci sono effetti collaterali. Ho deciso di fare il vaccino per una protezione, per me e per gli altri. È andata benissimo. Adesso vado a scuola. Non hai sentito nessun tipo di dolore? No, no, niente. Tutto a posto. E nelle Marche, nelle ultime 24 ore, sono morte 11 persone con coronavirus. Tra le vittime è anche due pesaresi di 81 anni. Sono 415 invece positive al Covid rilevati nell'ultima giornata. Quasi la metà ad Ancona, che registra 194 casi. Calano lievemente i ricoveri nei reparti non intensivi, ma aumentano sia i pazienti in terapia intensiva, più 4 rispetto a ieri, che quelli in semi-intensiva. E l'incremento dei contagi, ma anche dei casi di varianti inglese, preoccupano il comune di Cogli al Metauro, dove verranno aumentati i controlli delle forze dell'ordine. Sono quattro i casi di varianti inglese registrati nel comune di Cogli al Metauro. Cresce anche il numero di contagi rilevati dal servizio sanitario e resi noti dalla Regione. Ad oggi sono 138 le persone in quarantena, di cui 63 positivi. E considerando i 2200 abitanti circa, significa che quasi un cittadino su 90 è in quarantena e una persona su 193 è stata contagiata. I medici di base hanno riscontrato un incremento dei casi, in particolare tra i giovani e i giovanissimi. Un fenomeno che ha messo in allerta in comune la Commissione Covid, formata dall'assessore alla sanità Anna Chiara Mascarucci e dai consiglieri comunali Francesco Tadei e Fabrizio Valeri. Visto l'aumentare dei casi, la settimana scorsa abbiamo deciso di riunire la Commissione Consigliare Covid. In quell'occasione abbiamo deciso di intensificare i controlli da parte della Polizia Municipale. Da due giorni a questa parte abbiamo anche la variante inglese nel nostro comune, che colpisce soprattutto i ragazzi. Quindi l'unico modo per contrastare e vincere questo virus è rispettare le regole, quindi tenere la mascherina, sanificare le mani, non creare assembramenti. E molto importante ovviamente è il vaccino. Ci aspettiamo che tutta la popolazione venga vaccinata il prima possibile. Quando è nata la Commissione e con quale obiettivo? Allora, la Commissione Covid nasce con l'ultimo Consiglio Comunale del 2020. Ci siamo riuniti per la prima volta il 2 gennaio 2021. L'obiettivo è quello di dare una comunicazione precisa ed efficace alla cittadinanza. L'esigenza è nata direttamente su richiesta di molti cittadini che avevano la necessità di conoscere lo stato del contagio e dell'evoluzione della pandemia a livello comunale. Durante la prima ondata, ovviamente, tutti gli sforzi della Giunta Comunale e degli stessi tecnici sono stati rivolti a affrontare la pandemia stessa, per cui abbiamo deciso di metterci a disposizione per seguire questa parte legata alla comunicazione. Dunque continuerete a riunirvi per monitorare la situazione? Sì, continueremo a riunirci finché la situazione lo richiederà. Noi ci riuniamo più o meno settimanalmente, ma cerchiamo di dare informazioni sullo stato del contagio a livello comunale più che quasi giornalmente. Inoltre cerchiamo di dare alla popolazione informazioni riguardo ai decreti, alle ordinanze regionali e in generale alle regole da rispettare. E a causa delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria sono stati rinviati a data da destinarsi i prossimi appuntamenti ai quali avrebbe dovuto presenziare il Vice Presidente della Giunta regionale, Mirko Carloni, nell'ambito di un ciclo di incontri previsto per la raccolta delle stanze del mondo agricolo per il piano di sviluppo rurale 2021-2022. Annullati quindi gli incontri in programma per domani a Montalto delle Marche e il 4 marzo a Monbaroccio. È stato annullato anche l'incontro del 5 marzo a Petrito, in provincia di Fermo, dove era previsto il tavolo Agri-Food Salute sulla specializzazione intelligente. E sempre a causa della situazione pandemica è stata annullata l'inaugurazione del ponte 2 giugno che era prevista per domani mattina a Senigallia. Dall'emergenza sanitaria a quella economica è ancora in difficoltà il settore del commercio ambulante che risente del divieto di spostamenti. Oggi siamo tornati tra le bancarelle del San Decenzio. La zona arancione in cui sono piombate le Marche lunedì scorso non soddisfa nemmeno gli ambulanti del mercato San Decenzio di Pesaro. Il divieto di spostamento da un comune all'altro si ripercuote anche sui loro guadagni, miseri di questi tempi. Qui si lavora solo con gente del posto e resistere è difficile, eppure il mercato all'aperto resta al luogo più sicuro, raccontano gli operatori del settore, alle telecamere di Fano TV. Qualcuno nei mesi scorsi ha già gettato la spugna e chi resta non nega le difficoltà legate a un comparto, quello del commercio ambulante, profondamente in crisi. Ci cambia perché la gente dal comune non si può muovere e quindi c'è solo la gente del posto, per cui vedi proprio un numero di persone molto minore, per cui ci cambia molto. Nelle città grandi si accusa di meno, però nei paesini più piccolini, qui a Pesaro bene o male è abbastanza grande, allora c'è più popolazione, di conseguenza c'è più gente. Un po' anche la paura, magari i soldi sì, il lavoro è calato, quindi di conseguenza anche i soldi da spendere sono meno, però anche la paura di spendere, perché non sanno dove andremo a finire, quando finirà questa cosa. Le persone hanno paura di uscire, l'affluenza nei mercati non c'è, noi ci mettiamo tutto l'impegno del mondo per attirarli, però c'è tanta paura, c'è tanta paura, poi tutte le volte che cambia la zona, da zona gialla a zona arancione, si vede proprio il crollo del lavoro, il crollo del lavoro è consistente e stiamo sperando tutti nei turisti. Il mercato è il posto più sicuro, perché siamo fuori, all'aria aperta, perciò manteniamo le distanze, perché non c'è questo assembramento di gente, perciò il problema che ci fanno chiudere, che siamo stati chiusi, noi eravamo quelli che potevamo tenere aperto tranquillamente, è più pericoloso andare in un supermercato che venire al mercato. Il mercato c'è, ma l'affluenza è poco? No, pochissima, pochissima, perché la gente, chi non si può muovere dai comuni, perché magari sono in zona arancione, perciò non possono cambiare comune, c'è poca gente, veramente poca, poi il problema è la crisi, perciò la signora che prima veniva al mercato, adesso deve aiutare il nipote, deve aiutare i figli, e perciò i soldi in tasca non ce l'ha. Si terrà il 24 maggio davanti al GUP della Tribunale di Ancona Francesca De Palma, all'udienza preliminare per la cosiddetta inchiesta bis sulla strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l'8 dicembre morirono 5 adolescenti e una madre di 39 anni. Gli indagati che rischiano di finire a processo sono 18, tra loro anche i proprietari dell'immobile, i gestori del locale, due addetti alla sicurezza e i componenti della commissione di vigilanza, compreso il sindaco Matteo Principi, che rilasciarono i permessi al locale. I riatti contestati a vario titolo vanno da omicidio colposo plurimo a lesioni personali, passando per il falso e il disastro colposo. E adesso lavori pubblici nel comune di Mondolfo. Si sono conclusi in questi giorni i lavori della nuova fermata bus lungo la statale 16, l'altezza di via Andersen. Il progetto, finalizzato a migliorare la sicurezza e la fruibilità, ha previsto l'ampliamento dell'esistente con un nuovo spazio di fermata degli autobus, ma anche la costruzione di una piazzola rialzata, la posa in opera di un nuovo marciapiede e l'installazione di una pensilina. Nei prossimi giorni sarà avviato il nuovo piano della segnaletica, orizzontale e verticale, e l'installazione di dossi e dissuasori di velocità. L'intervento andrà ad interessare le vie del centro storico di Mondolfo, vari quartieri, il territorio di Marotta. Per questi lavori, che saranno realizzati durante la primavera, sono stati stanziati 28 mila euro. A Fano, invece, prosegue l'opera di pulizia delle pensiline della città e della periferia, in collaborazione con la società Ami. Lo fa sapere l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori, la quale annuncia che entro l'estate verrà aggiunto un tocco di bellezza, grazie all'arte e al lavoro messo a disposizione dai ragazzi delle scuole superiori. Sono tante le occasioni, commenta l'assessore, per far cambiamenti importanti alle piccole cose. E adesso lo sport con il fanese Giacomo Mattioli, lo vedete alle mie spalle, che è stato eletto presidente del CSI delle Marche. Servizio di Filippo Pucci. È Giacomo Mattioli, 42enne fanese, manager aziendale e responsabile della formazione in materia di sicurezza sul lavoro, il neopresidente del Centro Sportivo Italiano delle Marche. L'elezione si è svolta sabato scorso attraverso una videoconferenza alla presenza del presidente uscente Tarcise Antoniozzi, del presidente nazionale Vittorio Bosio, dell'assistente ecclesiastico nazionale Don Alessio Albertini, del presidente Coni Marche Fabio Luna e dei rappresentanti regionali di WISP e US Acli. Dopo otto anni come componente del Consiglio regionale, gli ultimi quattro come vicepresidente, ho scelto di dare continuità un po' al mio operato, a chi aveva creduto in me in questi anni e per rappresentare anche il territorio provinciale di Peso Rubino a livello regionale. Quindi ho voluto rilanciare, mettermi in gioco e cercare di aprire nuove strade in questo quadriennio che ci aspetta. Mattioli ha già le idee chiare sul futuro per salvare lo sport in un momento difficile come questo, ovvero il dialogo con i territori e con la politica. In primis di mantenere e riallacciare dei rapporti sempre più stretti con la regione, con la regione Marche politica, per cercare di avere tutti i sussidi che le società sportive meritano in questo momento di stop per il Covid, ma anche di ragionare in prospettiva per rilanciare lo sport quando si potrà ripartire. È ancora troppo difficile per sapere l'avvio delle attività sportive, ha aggiunto poi Mattioli, ma cerchiamo di essere vicini a tutte quelle persone che non lavorano più da un anno e per rilanciare le attività appena possibile. Verosimilmente prima dell'estate sarà dura far qualcosa. In quel momento dovremo essere pronti anche nel rispetto di tutte le nuove normative che ci potranno essere per ripartire chiaramente in un modo diverso da quello che abbiamo sempre conosciuto finora e quindi in questo momento un ruolo importantissimo lo gioca la formazione. Formazione, prevenzione e adeguamento al rispetto delle norme che arriveranno. E con lo sport chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco andrà in onda una nuova puntata di Guarda che c'è protagonista, il giornalista e scrittore Luca Guazzati, intervistato da Paolo Notari. L'informazione invece torna domani mattina con il commento ai quotidiani insieme al direttore Marco Ferri. Quello che vedete in sovrimpressione invece è il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.